ah si è incruzzato anche quello basta a posto ascolto piuttosto che tagliare questa questa e via boh vediamo il piano qua accende no lì passavamo lì qua era l'unica maniera a pulirlo perché sennò pulisci più basta non lo fai né a salire né a scendere dopo va che è tutta dritta e vai piano vai qua vai piano e a scendere no vai giù piano e basta dopo vai giù diritto no c'era c'era qua il sentiero è solo crollata questa boh lascia venire giù di qua ascolta piuttosto che tagliare quello lì piano è vito dopo è di là è tutta dritta passa sopra davanti passa sopra se ti evita che si scivola tu ti piace il passo sopra piano boh basta sopra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vuoi lo possiamo fare. In alto, in alto. Dai che li tagliamo, almeno lo puliamo, dai. Dai, dai, fai quello, vai. No, lo puliamo in alto. È diventato scemo come tu. Ma c'è un anello del Tani che lo puliamo su in alto, che c'è giù due o tre piante. Almeno lo tiriamo fuori anche quello lì, sennò non lo facciamo più. No, no, andiamo su fino a là, sono su in cima in cima tanto. No.